Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo del Saleva Alptrek 55 più 10 versione da uomo lo zaino che mi ha accompagnato per la seconda parte dell'altavia 2 se volete vedere cosa mi sono portato sull'altavia e cosa ho messo dentro lo zaino potete ritrovarlo nelle schede qua in alto a destra ma partiamo con la recensione di questo zaino io partirei subito col mostrarvi tutte le sue belle taschine andando a metterlo qua su questo tavolo allora cosa abbiamo? parte alta abbiamo tasca normale, semplice, classica, sopra con tasca anche sotto da quest'altra parte tasca capienti, tranquille, niente di particolare tascone centrale che può essere aperto a metà da questa parte andando un attimo a stracciare qui qua si può aprire, come al solito l'ho riempito con dei cuscini però si può prendere qualsiasi cosa, si vada a mettere anche giù in fondo da quest'altra parte, ve lo giro abbiamo un'altra tasca che vado ad aprirvi è molto lunga, lunga tutto lo zaino però non si può mettere roba molto spessa qua dentro ci sta un libro, una cartina o roba di genere roba non troppo spessa però mi piace molto questa tasca esterna perché posso infilare la cartina e non sono obbligato ogni volta ad aprire lo zaino per cercarla e via dicendo questa tasca qua mi piace veramente tanto tanto poi cosa abbiamo? qui abbiamo nella parte esterna scendendo questa retina molto elastica, veramente molto elastica dove possiamo andare a riporre il casco se dobbiamo fare roba d'alpinismo dove possiamo andare a riporre un indumento magari se dobbiamo mettere e togliere spesso un secondo strato senza nessun problema e questo a sua volta si può togliere se non lo utilizziamo con questi gancetti qua laterali si va a togliere quindi molto semplice, ben fatto mi ci sono trovato davvero bene soprattutto per poter insediare un secondo strato magari in quelle giornate in cui va via il sole e fa freddo torna il sole e fa caldo e via dicendo abbiamo la possibilità di mettere bastoncini sia da una parte che dall'altra oppure due piccozze anche e proseguendo sotto cosa abbiamo? abbiamo questa tasca pensata per la tenda che è troppo piccola secondo me fin troppo piccola lo zaino 55 litri va bene però avrei fatto questa tasca più grossa per il semplice fatto che io sono andato a insediare la mia tenda e ci sta dentro solo questa ci sta dentro solo questa non ci sta dentro neanche un materassino o un sacco a pelo questa magari una giacca impermeabile se ce l'abbiamo particolarmente piccola e basta sì possiamo comunque agganciare fuori il materassino il sacco a pelo grazie alle cinghie qua sotto questo non è assolutamente un problema però dato che la tasca sotto di solito è pensata per metterci comparto notte chiamiamolo così qua ci sarà la tenda e basta il materassino e il sacco a pelo ho dovuto metterli sopra lateralmente abbiamo sia da una parte che dall'altra queste belle tascone molto molto profonde davvero profonde e anche se andiamo a tirare la cinghia riusciamo comunque ad inserire una borraccia senza che la perdiamo e ora vado a parlarvi del sistema di chiusura in alto innanzitutto abbiamo questa cinghia questa qua che ci permette anche di poter trasportare la corda sempre in caso dovessimo fare alpinismo e poi abbiamo queste due chiusure come potete vedere qui c'è del tessuto in più qui basta tenere il nastrino qua e si va ad aprire questi sono i famosi più 10 litri molti dicono che 10 litri così non hanno senso io personalmente mi ci sono trovato molto bene avere 10 litri in più perché lo zaino completo da trezzatura una cosa e l'altra mi è capitato di dover prendere un giorno del cibo in più avevo dentro 3 giorni di cibo per 2 persone e avere 10 litri in più comunque poter mettere qualcosa in più alla necessità secondo me torna utile poi alla fine una volta che non li utilizziamo questo si fa su lo chiudiamo e non sono ingombranti poi abbiamo quest'altra chiusura che va a chiudere completamente lo zaino lo rende abbastanza compatto per chiuderlo basta tirare sia una che l'altra questo magari io li do sempre fatti su un po' alla buona ecco e agganciando la cinchia per la corda chiudevo tutto lo zaino molto molto semplice passando a parlarvi un attimo delle tasche sulla fascia lombare queste sono molto grosse ma veramente molto grosse ci sta dentro un cellulare anche di generose dimensioni senza nessun problema qua ci sta dentro anche una GoPro secondo me ci sta dentro anche una macchina fotografica compatta non una mirrorless o roba del genere una macchina fotografica compatta quindi sia nella parte che dall'altra veramente molto molto buone ci si può caricare abbastanza peso che poi come sappiamo sulla fascia lombare si mettiamo anche un po' di peso in più non lo sentiamo però penso che parliamo di fascia lombare giriamo lo zaino e qui abbiamo tutto il sistema di saleva il dryback per quanto riguarda lo schienale e il fascione lombare io partirei dallo schienale regolabile con questo strap in su e in giù senza nessun problema io anche con tanto peso tenete conto che c'è stato un giorno che avevo sulle spalle 15 kg completamente pieno di cibo questo resta al suo posto non c'è alcun problema gli spallacci buoni mi piace molto questa apertura perché va a scaricare il peso su queste due parti che le trovo molto comode perché va a prendere proprio esattamente diciamo l'osso della spalla quindi non va a scaricare sul muscolo questo mi piace particolarmente questa idea di mettere il forellino in mezzo sia da una parte che dall'altra naturalmente chiusura sulla fascia toracica senza fischietto qui dentro non c'è il fischietto e invece fascione centrale fascione centrale anche questo fatto molto bene tutto in tessuto traspirante con queste cinghie fatte molto bene anche qui 15 kg sulle spalle queste non si vanno ad aprire quindi direi fatte molto bene cosa ne penso di questi due sistemi bene e male nel senso molto bene lo scarico del peso 15 kg sulle spalle l'ho sentito veramente poco e non mi hanno fatto male le spalle io riesco a notarlo molto bene perché faccio un esempio con altri zaini che non mi sono piaciuti mi trovo sempre la spalla viola proprio un ematoma quasi perché mi fa mi fa veramente male se gli zaini scaricano male in questo caso non avevo quasi niente giusto un piccolo rossore ma poco poco di niente quindi per quanto riguarda lo scarico del peso buono questa si avvolge veramente bene attorno alla fascia lombare e si riesce a regolare molto molto semplicemente per quanto riguarda invece lo schienale il dryback non mi è piaciuto e vi spiego il perché questo sistema è pensato in pratica che l'aria entra attraverso queste scanalature e dovrebbe portare fuori il vaporeacolo che produciamo il sudore lo fa? sì nelle giornate diciamo di media temperatura lo fa abbastanza nelle giornate molto molto calde io ho avuto la spiacevole situazione di trovarmi lo schienale quindi questa parte perché comunque è fatta un po' in schiuma completamente piena di sudore cioè questo era fradici ho completamente bagnato quindi diciamo che funziona nelle giornate miti nelle giornate calde no davvero era completamente bagnato è stata una bruttissima sensazione poi visto che parliamo di cose che non mi sono piaciute le cerniere in particolare vi faccio vedere qui sotto nella parte bassa nella tasca al di sotto della tasca principale niente io la prima mattina di trekking vado a richiuderlo con sempre la solita attrezzatura che avevo all'interno anche il giorno prima quindi non è che sono andato a mettere roba in più e niente si è rotta una cerniera semplicemente quindi sono rimasto solo con una cerniera che è un è un guaio perché se mi si andava a rompere anche questa non dico che dovevo abortire l'avventura ma quasi perché non potevo più chiudere lo zaino sotto praticamente ma in generale tutte le cerniere non mi danno quel senso di solidità mi sembrano molto molto troppo piccole mi sembrano fin troppo fragili ecco per uno zaino di questo genere di contro invece mi sono piaciute molto tutte le fibie perché puoi stringerle quanto vuoi non si rompono tengono tengono davvero tanto soprattutto io noto sempre questi qua in alto che magari in discesa se hai tanto peso vanno ad aprirsi e niente queste tutte chiuse non si è mosso assolutamente niente io partivo con lo zaino messo in un modo arrivavo con lo zaino uguale identico quindi da questo punto di vista ottimo cosa altro mi è piaciuto mi è piaciuta la forma abbastanza filante dello zaino come potete vedere va molto bene in questo modo a prendere la forma della nostra schiena senza avere protuberanze da una parte o dall'altra essere un pochino goffo se dobbiamo pensare di fare magari un'alta via faccio un esempio un'alta via 2 dell'odolomitica tante ferrate uno zaino che va a coprire completamente la nostra schiena è un'ottima cosa perché passando tra le ferrate magari in punti molto stretti lo zaino non ci dà ingombro non rischiamo di aggrapparci da qualche parte di prendere dentro e via dicendo quindi da questo punto di vista anche l'ingegnerizzazione totale dello zaino mi è piaciuta poi sui colori a me piace però questo come sappiamo è una cosa molto molto personale e per finire vi faccio vedere che qua sotto in una taschina c'è il rain cover questo qua che fortunatamente io non sono andato ad utilizzare però molto semplice si mette sopra come potete vedere ci sta spazio anche se avessimo avere lo zaino un pochino più pieno e qua in alto c'è un simpatico l'accetto per poterlo stringere attorno allo zaino molto semplice se abbiamo veramente anche l'essere qualche piccozza o il casco e via dicendo va a coprire anche quello quindi assolutamente bene perciò ragazzi questo è l'Alp Trek 55 di Saliva uno zaino che con cui mi ci sono trovato bene dico la verità se non fosse per lo schienale nelle giornate i miti fa veramente un ottimo un ottimo lavoro visto anche dello scarico del peso davvero mi è piaciuto tantissimo spero che il video vi sia piaciuto quindi nella speranza di essere stato esauriente ed esaustivo io vi ringrazio per averlo guardato e ci vediamo al prossimo ciao ciao